ben trovati ben trovate a tutti benvenuti in questa nuova puntata di sentieri d'amore la nostra rubrica dedicata alla coppia dedicata alla psicologia delle relazioni affettive oggi entriamo subito nel vivo parliamo di qualcosa di molto molto importante nella coppia ovvero la l'indipendenza sto dicendo la dipendenza e il lapsus non è casuale perché vorrei in questo video sfatare questo mito assolutamente negativo e bisogna dirlo a chiare lettere che la dipendenza sia amore che un po se non dipendo dall'altro in fondo non c'è sentimento forte se non c'è quel minimo di dipendenza di possesso di gelosia allora di che parliamo ecco dobbiamo in modo leggero ma in sicuramente fermo iniziare a divulgare una cultura delle relazioni che siano davvero evolutive che siano relazioni d'amore dobbiamo iniziare avere il coraggio di parlare di amore con la maiuscola cioè di relazioni che fanno star bene semplicemente questo è sinceramente la dipendenza da qualsiasi cosa sostanze persone shopping quindi atteggiamenti non fa stare bene la dipendenza è un limite al benessere nelle relazioni ancora di più dobbiamo vedere che la dipendenza è l'inizio della violenza perché se dipendo da te non posso farne a meno non posso perderti quindi sono disposto o disposta a tutto pur di tenerti con me quindi dipendenza uguale violenza è uguale purtroppo drammi dalla separazione fino alla violenza fisica fino all'omicidio quindi sfatiamo la chiare lettere questa idea della dipendenza uguale amore dipendenza uguale possesso detto questo oggi invece parliamo dell'indipendenza nella coppia che non vuol dire ovviamente fregarsene dell'altro non avere alcun tipo di sentimento ritenersi assolutamente single in coppia quindi non vuol dire disimpegno perché molti dicono io sono indipendente dalla persona con cui sto nel senso che non ho alcun impegno nella relazione non è quello cerchiamo di capire allora questo mix questo bilanciamento tra libertà libertinaggio e indipendenza lo facciamo attraverso cinque parametri molto semplici molto leggeri che però possono darci l'idea di quanto siamo realmente indipendenti e di che cos'è l'indipendenza di come ci può far star bene quindi vediamo il primo il primo punto è trovare avere spazi e tempi solo per sé questo è importantissimo in modo molto semplice l'idea della coppia fusionale cioè siccome siamo in coppia facciamo tutto insieme condividiamo tutto ci diciamo tutto a quel punto se c'è la fusione completa non c'è più la coppia perché non ci sono più due persone diverse non c'è più comunicazione possibile quindi se all'inizio con l'innamoramento tendiamo a voler stare sempre con la persona condividere tutto con la persona dividere proprio gli spazi con con la persona dobbiamo iniziare a capire che maturare come coppia maturare nell'amore vuol dire invece bilanciare momenti e spazi insieme da momenti e spazi solo per sé perché è importante questo perché sostanzialmente nei momenti negli spazi solo per me io posso curare la relazione con me stesso posso ricordarmi delle cose che sono mie non cose materiali faccio un esempio io sono la batteria non mi piace suonare se nella stanza sono mia moglie i miei figli che mi guardano è un'attività che piace fare da solo ed è bello perché mi ricorda chi sono mi mi fa stare col mio strumento mi dà l'idea proprio di uno spazio segreto dove segreto non vuol dire che non sanno dove sono che nessuno che sparisco ma segreto vuol dire separato da tutto il resto uno spazio sentite proprio emotivamente come suona solo mio è il mio spazio il mio luogo del silenzio luogo della dell'intimità con me stesso questo come altri ok quindi è molto importante preservare spazi e tempi solo per sé se non ce li abbiamo iniziamo a farlo iniziamo a preoccuparci secondo punto interessi personali si lega al primo spazi tempi ma soprattutto interessi ecco per esempio le coppie fusionali sono quelle coppie che non reggono il fatto che si possano avere interessi diversi proprio diversi cioè una persona piace leggere all'altro piace vedere i video stupidi su youtube allora si inizia a giudicarsi no no ma dovremmo condividere questi interessi il tuo è più stupido la lettura invece più importante invece avere degli interessi propri degli interessi personali che non si condividono vuol dire mantenere quell'identità che poi arricchisce la coppia ora ho fatto un esempio banale però se a me piace la filosofia e la spiritualità a mia moglie invece piace leggere più i thriller abbiamo qualcosa che ci differenzia anche di cui parlare è anche qualcosa che può creare ancora di più un terreno in comune io dico sempre e lo dico davvero che non invidio le coppie che fanno lo stesso lavoro le coppie di colleghi io proprio non le invidio credo che non potrei stare con una psicologa perché si finirebbe davvero per parlare delle stesse cose e quindi ci sarebbe meno differenza meno diversità e meno interesse anche a condividere quindi interessi personali terzo punto indipendenza emotiva e qui arriviamo a un punto centrale no che vuol dire indipendenza emotiva vuol dire sostanzialmente che l'umore dell'uno non dipende dall'umore dell'altro lo ripeto le emozioni che provo io non dipendono dalle emozioni che prova mia moglie e qui sembra non sembra qui tocchiamo un punto molto forte molto dibattuto perché anche qui c'è il mito che se mia moglie triste e questa cosa non mi tocca allora non l'amo tensioni non sto dicendo che se mia moglie triste io faccio organizzo festa e stappo lo spumante perché lei è triste dai io sono felice perché lei è triste quello sarebbe un po strano però che non ci sia contagio emotivo cioè che io permetta a mia moglie di vivere la sua tristezza non cadendoci anch'io nella tristezza questo vuol dire poter essere invece di supporto che io permetta a mia moglie di viversi la sua rabbia anche nei miei confronti senza sentirmi sbagliato in colpa e rovinarmi le giornate dovere in qualche modo aver paura che finisce indipendenza emotiva vuol dire saper vedere l'emotività dell'altro diversa distinta dalla propria e saper vedere quanto l'emotività dell'altro invece condiziona la mia e mettere dei chiari confini perché se ogni volta che mia moglie si arrabbia io cado nel terrore di perderla nella paura ogni volta che mia moglie è triste io cado nell'ansia che poi oddio che sta succedendo la devo salvare e beh è una vita di inferno se invece riesco a reggere la sua emotività mantenendo salda la mia posso ripeto essere ad aiuto a lei essere d'aiuto a me essere d'aiuto alla coppia alla relazione quindi indipendenza emotiva quarto punto sostenere le decisioni dell'altro ecco che vuol dire indipendenza vuol dire anche riuscire a capire che se leggo le scelte dell'altro sempre in relazione a me sempre in relazione a quale vantaggio svantaggio sia concreto sia emotivo sia di altro genere procurino a me allora non sono indipendente ma sono dipendente dall'altro se per esempio mia moglie sceglie di ora affrontare un percorso di studi suo io posso vederlo in modo dipendente di aspetta però se lei studia poi i figli devo occuparmene io poi perché lei dovrebbe studiare ma in fondo non c'è bisogno poi si modificano degli equilibri poi avrà meno tempo per me meno tempo per la famiglia e quindi reagire in modo dipendente oppure vedere mia moglie come l'essere che amo l'essere con cui sto condividendo una coppia quindi l'essere di cui avere anche cura e di cui avere anche responsabilità abilità di rispondere ai suoi bisogni e di dire ok se sceglie se ha il bisogno se ha la voglia se sceglie di fare questo perché è qualcosa che fa bene a lei allora io sostengo la sua scelta quindi sono indipendente non penso di essere dipendente dal suo tempo dal da quello che può darmi ma l'indipendenza la dimostro valorizzando lei il suo percorso le sue scelte tenendo presente che lei è una persona diversa da me e che ne devo avere cura cura questa è una forma bella anche di indipendenza allora andiamo avanti l'ultimo il quinto che è comunicare bisogni ed esigenze e questo è un po il qui possiamo davvero chiudere perché per avere indipendenza dobbiamo soprattutto non temere non aver paura non aver il timore a volte anche il terrore di comunicare all'altro i nostri bisogni le nostre esigenze se a te va di andare al cinema e io sono stanco o non mi va o semplicemente voglio leggere il mio libro stasera non devo avere il terrore che finisca il rapporto o che tu ci rimani male quindi dipendenza emotiva se poi lui ci rimane male io non reggo se lei è triste io come faccio ma devo poterti dire tranquillamente io ho bisogno di stare a casa a letto a leggere stasera ci andiamo un altro giorno ok lasciare anche l'altro libero di rimanerci male ok vedete l'indipendenza non vuol dire fregarsi l'uno dell'altro assenza di sentimenti ma vuol dire modularli io ti dico il mio bisogno ti dice cavolo però ci ci volevo andare vabbè sinceramente ci resto un po male sì dai ci resti un po ma ci andiamo la prossima volta dai ora leggo il libro sentite il clima di libertà ognuno nell'esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze ognuno di vivere le proprie emozioni quindi ripeto è importante capire tutto il quadro io ti esprimo il mio bisogno la mia esigenza vorrei andare a cinema insieme stasera tu mi contrapponi che non vuol dire scontro proprio mi mostri altrettanto in libertà la tua esigenza il tuo bisogno e mi dici stasera io invece voglio stare sotto il piume a leggere il mio libro proprio lo voglio finire mancano le ultime venti pagine quindi ti mostro il mio la mia voglia il mio bisogno la mia esigenza di fare questo e anche la mia gioia nel farlo proprio come una bambina voglio leggere il mio libro voglio finire tu mi mostri altrettanto in libertà che ci sei rimasto male rimasto rimasta eh però ci tenevo andare al cinema sai un po mi dispiace e vabbè dai tu stai col tuo dispiacere io sto con la mia gioia di leggere il libro quando andremo a cinema semmai tu starei con la gioia di vedere il film io starò con un dispiacere di aver detto di no alla mia amica ma tutto nell'indipendenza non senza dipendere uno dall'altro e quindi nella libertà e questo lo dobbiamo dire a chiare lettere sempre di più amore uguale 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 libertà non la libertà fa parte l'amore è libertà troppo troppe coppie finiscono male ripeto male vuol dire arrivare anche alla violenza arrivare purtroppo anche ai delitti anche all'omicidio perché non si è capito che amore e libertà io ti amo nella misura in cui mi sento libero di essere me stesso con te e ti lascio libera libero di essere te stesso con me allora iniziamo a passare questo concetto certo ai più sembrerà un'utopia o sembrerà sbagliato o sembrerà contro tutto quello che ci insegna ma prendiamoci la responsabilità di diffondere un'idea di amore con la a maiuscola ok e quindi misuriamo la nostra indipendenza costruttiva sana e amorevole nelle nostre relazioni ok allora se questo video ti sembra utile ti è stato utile metti un like che non costa niente permette di avere più visualizzazioni condividilo con le persone a cui credi possa essere utile iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato aggiornata sui contenuti del canale e ti ricordo che questo canale è un progetto di divulgazione non è che ha un progetto è un progetto di divulgazione di teorie metodi tecniche strumenti assolutamente concreti e utili per migliorare le proprie relazioni il proprio benessere è per comprendere sempre di più come stare bene quindi se puoi e vuoi ti chiedo di sostenere il canale o con una donazione sotto questo video sotto altri video trovi il pulsante grazie con cliccando lo puoi scegliere di fare una donazione al canale oppure con un piccolo abbonamento di uno o due pochi euro al mese che ci permette di migliorare costantemente la qualità dei contenuti e soprattutto di produrne sempre di più ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video